Sindaco, lei farà un colpo di telefono a Giuseppe Conte per raccontargli chi è Francesco Maiorino perché sembra ne ha ancora bisogno? Ma potrei farlo volentieri, adesso onestamente è parecchio tempo che non ci sentiamo però credo che se dovessi chiamarlo, e probabilmente lo chiamerò, lo chiamerai per dirgli non tanto e solo chi è Maiorino e chi più di me può portare la testimonianza essendo stato parte della mia squadra ma più alto quell'idea è quali sono i punti che vogliamo essere punti comuni perché se non ci sono punti comuni, è inutile che ci inventiamo alleanze, ma se ci sono siamo obbligati a farle Ma quindi questa testimonianza la farò? Posso farla, adesso sinceramente non ci avevo pensato, però posso anche farla nel senso che comunque alla fine con Conte io avevo avuto rapporti non solamente quando era Presidente del Consiglio ma anche in una parte successiva, ripeto, adesso poi non ci siamo sentiti, ma non mancherebbe altro